Amici 3D Meteo, vi siete mai chiesti di cosa si è fatta una nuvola e come si forma? Ebbene, le nubi sono fatte principalmente di goccioline d'acqua o cristalli di ghiaccio, tutto dipende dalla temperatura, che si forma per condensazione del vapore atmosferico. Insomma, è tutta una questione di umidità e temperatura, anche se il motore principale per i moti atmosferici resta il sole. Immaginiamo una bella giornata primaverile, temperatura a terra intorno ai 28 gradi, per un principio detto principio di Archimede, l'aria calda inizia a salire verso l'alto. Ma salendo, la vostra bolla d'aria inizia anche a raffreddarsi, di circa 10 gradi ogni millimetri. Arrivata quindi a 2000 metri di quota, come vedete dalla nostra grafica, la sua temperatura sarà scesa a 8 gradi. A quel punto tutto dipende dalla temperatura dell'aria circostante. Se è più calda di lei, lei bloccherà la sua salita e si dissolve. Se invece la vostra bolla d'aria resta più calda dell'aria circostante, che quindi risulta più fredda, prosegue la sua salita, prosegue il suo raffreddamento, il vapore condensa e inizierà a formarsi le nuvole. E più questa spinta prosegue, più la vostra nuvola sarà imponente. Con questo è tutto, ma per altre curiosità vi aspettiamo sempre su Trebi Meteo.